Il Milan riparte con un poker in 30 minuti al Venezia. Vittoria importante dopo un faticoso inizio di stagione. Oggi qui dal TG 10 Milan Inside analizziamo brevemente il match contro il Venezia. Non l'avrei dato per scontato ma è stata una partita facile ed è stato positivo finire con 4 gol segnati e 0 subiti. Ottimo inizio perché dopo meno di due minuti Teo Hernandez ha segnato il gol dopo essersi inteso benissimo con le A.O. Fofana si riconferma un ottimo acquisto in centrocampo e mi è piaciuto molto anche Tammy Abram, tra l'altro autore su rigore del quarto gol. Con lo scambio Renders e Loftus-Cic ci sono state azioni più fluide, però penso sia ancora presto per i giudizi e attendere i partiti più complicate. Che dire di Pulisic, goal e assist nella stessa serata e premio come miglior prestazione. Stamattina la squadra ha continuato a preparare il debut in Champions. Calabria che dopo una botta subito in allenamento alla gamba è tornato ad unirsi al gruppo, mentre Ciau ha continuato il lavoro individuale. Dunque c'è Liverpool all'orizzonte. Cosa succederà domani? Alle 11.15 è previsto l'allenamento, mentre alle 2.15 sentiremo le dichiarazioni di Fonseca. Credo che l'iniezione di fiducia che ha dato ieri la vittoria ai giocatori sia un ottimo inizio, viste le difficili partite in programma, ma anche per i tifosi penso che la conquista dei tre punti sia stata qualcosa di positivo. Adesso vi auguro una buona serata e ci vediamo domani con il TG di AC Milan Inside.